Scontro violentissimo tra due auto in via Bassanese a Fonte ieri nel tardo pomeriggio. A causare l'impatto, probabilmente l'asfalto bagnato, le due vetture si sono scontrate frontalmente. Tre le persone coinvolte, tutte ferite, una in modo grave, si tratta di un 58enne residente in provincia. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del suo M118 e una squadra di vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area dell'incidente. Ma pesanti sono anche state le ripercussioni sul traffico, tanto da rendere necessario l'arrivo di una pattuglia di polizia.